Molti di noi seguono diete povere di nutrienti che sono considerati essenziali da migliaia di anni. Gli acidi grassi Omega 3, presenti soprattutto nel pesce fresco selvatico, svolgono un ruolo molto importante nella salute. Poiché le nostre diete non ne apportano a sufficienza e l'organismo non è in grado di produrne quantità adeguate da solo, è importante che assumiamo acidi grassi Omega 3 in un altro modo. Asia rende più facile ottenere questi preziosi acidi grassi con Asia via formula per le funzioni cardiache, cerebrali e visive. Questo integratore offre gli Omega 3 più importanti, DHA e EPA, nella stessa forma presente nel pesce. Il DHA contribuisce al mantenimento delle normali funzioni cerebrali e visive, mentre sia il DHA che l'EPA contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Sono stati anche studiati per l'effetto sulla pelle, regolazione dell'umore, benessere intestinale e normale replicazione cellulare. Asia via Omega è diverso da qualsiasi altro integratore di Omega. Fornisce proporzioni naturali di DHA e EPA più facili da assorbire. In più, molti altri integratori di Omega 3 non sono costituiti da fonti naturali e hanno un retrogusto sgradevole. Puoi sempre capire se un integratore di Omega è fresco dal fattore alito di pesce. Più l'olio è ossidato, più è probabile che troverai un retrogusto sgradevole. Asia via Omega ha un grado di freschezza ragguardevole. Gli oli preziosi contenuti in Omega sono freschissimi, ricavati da pesce fresco selvatico entro poche ore dalla cattura. Le capsule di Omega sono insapori, inodori e facili da deglutire. Molti integratori di olio di pesce non vengono prodotti secondo rigide valutazioni ambientali. Via Omega è sostenibile, tracciabile e rispettoso dell'ambiente. Il merluzzo dell'Alaska, da cui si ricava Omega, proviene da una pesca sostenibile, certificata in modo indipendente dal Marine Stewardship Council per catture accessorie minime e nessun sovrasfruttamento. Ogni partita di Via Omega ha un numero di lotto riconducibile alla barca utilizzata per catturare i pesci. Via Omega fornisce acidi grassi Omega 3, 5 e 7 in una miscela di oli benefici utilizzati tradizionalmente. Tradizionalmente, questo prodotto è composto da ingredienti di prima qualità, tra cui olio di olivello spinoso naturale ottenuto attraverso un processo di estrazione con fluidi supercritici, olio di semi di melograno spremuto a freddo, astaxantina e olio di limone naturale, estratto senza solventi chimici. Asia Via Omega è il prodotto Omega 3 che stavi aspettando. Questo straordinario integratore supporta il nutrimento generale e il benessere di tutto il corpo. Dai al tuo corpo ciò di cui ha bisogno con Asia Via Omega Formula per le funzioni cardiache, cerebrali e visive.